E' a terra Siamo passati in vantaggio Bersaglio rimosso Eliminate qualsiasi minaccia Una raggiunta Colpo a segno Uccisa Spero un'era che i xd Sì! Sì! Lancia un astordente! Sgastrato! Atterra! Trimstone 2-1, Napalm sul bersaglio, rientriamo. 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 Grazie. Granata partita! Centro perfetto! Rapporto! Attacco al napalm in arrivo! Aereo spia o steven in supporto sulla zona. Uso una granata! Uso una granata! Spesnaz, siete in partaglio! Aereo spia o steven in supporto sulla zona. Aereo spia o steven in supporto sulla zona. Missione compiuta. Controllare che non ci siano superstiti nemici. Area sicura! Obiettivi completati! Lancio una stordente! Abono! 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 Grazie per la visione!